Serata culturale di notevole livello a Isernia dove nel centro storico, davanti alla fraterna, simbolo del capoluogo Pentro, Franco Valente ha incantato la platea raccontando segreti e retroscena della fontana medioevale. Presente anche il sindaco di Isernia che da politico navigato ha dovuto fare buon viso a cattivo gioco. Sindaco Venafro batte segne a 2 a 0, un golo lo fa Franco Valente che viene qui da Venafro a insegnarci un po' di storia cittadina, l'altro golo l'ha fatto Sorbo con un cartellone estivo da paura. Brasiello che fa? Insomma sta in grossa difficoltà. No, partiamo secondi ma arriviamo primi, di questo non ne sono sicuro. Stiamo preparando il cartellone estivo che sarà un cartellone per la verità molto nutrito. Tra l'altro abbiamo anche individuato e meno male delle risorse insperate che non pensavo di avere, quindi credo a giorni tireremo anche fuori noi un bel cartellone estivo in modo che tutti i cittadini che rimangono in città potranno godere delle iniziative. Quella di Franco invece devo dire è un'iniziativa che io ho sponsorizzato molto, ci tenevo a questa cosa, ci tenevo soprattutto al fatto che venisse messa in evidenza la storia della Fontana Fraterna di Sernia, che è un simbolo che credo a livello nazionale sia importantissimo come monumento. Ho letto un po' di storia per non venire impreparato e mi sono accorto che sostanzialmente è una Fontana dai mille segreti. Non si capisce bene, poi ce lo spiegherà ovviamente l'architetto Valente, non si capisce bene da dove viene, che cos'è o quant'altro. Ed è un'occasione straordinaria, credo che con questa iniziativa possiamo aprire l'estate Sernina. Ecco, sfruttiamo Venafro per aprire Sernia. Qual è il segreto, più segreto della Fontana Fraterna? La Fontana Fraterna è un segreto in tutti i sensi, sia dal punto di vista architettonico, dal punto di vista artistico, dal punto di vista storico, perché in effetti racconta una quantità di fatti sostanzialmente sconosciuti. Quindi si tratta di rivelare o di svelare dei segreti che si nascondono dietro delle forme architettoniche. Sicuramente, come ha detto il sindaco, c'è molto da dire e molto ci sarà da dire in futuro. È il simbolo della città, è il simbolo un po' di tutta la regione molise, perché in effetti è un marchio quasi che si è diffuso nel mondo, è conosciutissimo perché è pubblicato solo a Treccani, però molto spesso sono gli uomini del posto che non conoscono la storia di questo luogo. Gli ingegneri sono diventati anche...